Cominciamo ad allariete. Datevi da fare se volete uscire vittoriosi da una complessa sfida professionale che vi sta rendendo la vita difficile. Toro, lasciate che le cose vadano come devono andare. Del resto, in questo momento, forzare la mano alle situazioni potrebbe essere più nocivo che altro. In famiglia ci sono problemi da risolvere e prima lo farete e meglio starete. Gemelli, il pomeriggio potrebbe regalarvi un incontro molto piacevole, magari con una persona che non vedete da tempo. Sul lavoro dovrete essere più che mai presenti se non volete perdere una bella occasione. Cancro, non cercate a tutti i costi di voler imporre il vostro punto di vista a qualcuno che potrebbe non condividerlo. Puntate sul dialogo in questa giornata in cui saprete essere più persuasivi che mai. Leone, siete pieni di impegni professionali e così vi dimenticate delle persone che vi vogliono bene. Cercate di ovviare alle vostre mancanze facendo qualche telefonata in più. Vergine, non siate troppo polemici se non volete rischiare di passare dalla parte del torto. La vostra dolce metà si sente poco considerata poiché dedicate tutte le vostre energie a un progetto di lavoro, eppure ci vorrebbe così poco. Bilancia, le vostre aspettative oggi potrebbero andare un po' deluse, soprattutto se vi aspettate aiuto da parte di un amico. Infatti dovrete cavarvela da voi, con le vostre sole forze, per uscire da una grana di lavoro. Scorpione, siate positivi perché potrebbe essere in arrivo una bella notizia di tipo professionale. Perciò siate più tolleranti con tutti ed evitate di dire sempre quello che pensate. Sagittario, l'umore è buono anche se potrebbe bastare mezza parola di troppo per squilibrare la situazione. Evitate di dare per scontate le cose, altrimenti potreste rimanere facilmente delusi. Capricorno, la settimana riparte in maniera sonnolenta, però non avrete molto da lamentarvi poiché potrebbe giungere una bella notizia di lavoro già verso l'inizio del pomeriggio. Serata da trascorrere in tranquillità a casa per ritrovare il vostro ritmo migliore. Acquario, sarete emotivamente ricettivi anche se un po' instabili. Tutto ciò che vi gira intorno vi diverte o vi ferisce ai massimi livelli. Pesci, parlate di meno e agite di più, soprattutto sotto il profilo professionale. Infatti ci sono ottimi risultati che potrebbero attendervi dietro l'angolo. In amore, piccole discussioni rendono l'atmosfera un po' tesa. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.